Il centro storico rischia di rimanere senza istituzioni scolastiche. Quattro i plessi scolastici della città appartenenti a tre istituti che a causa della riduzione delle iscrizioni con un numero inferiore ai 600 studenti rischiano a settembre di perdere la personalità giuridica con il conseguente venir meno della figura del dirigente scolastico e del direttore amministrativo. Si tratta del plesso Angeli e San Giusto, dell'Istituto Comprensivo Pittorio Veneto, del plesso Santa Lucia dell'Istituto Comprensivo Pietro Leone e del plesso Santa Flavia della Martin Luther King. Gli istituti comprensivi interessati diventerebbero dunque delle scuole a reggenza. L'unica soluzione per scongiurare l'eventuale chiusura sarebbe quella della razionalizzazione, ossia quella di assegnare alle scuole più piccole i plessi delle scuole che contano un maggior numero di studenti, in questo caso dell'Istituto Comprensivo Don Milani con 1.400 iscritti o dell'Istituto Comprensivo Filippo Cordova con 1.300 alunni, scongiurandone così la perdita della personalità giuridica ed ai posti di lavoro. È vero che c'è un calo demografico, ma è anche vero che c'è una decennale mancanza dello Stato, delle amministrazioni, perché a poco a poco si è abbandonato questa struttura e per cui oggi mancano del tutto dei servizi e rischia di mancare un servizio fondamentale qual è quello della scuola. L'identità di questa scuola è proprio questa, è quella di combattere la dispersione scolastica e il rischio di devianze sociali. Sarebbe un disagio per tante famiglie, anche perché ci sono delle famiglie che sono durante la giornata, magari sono costrette ad andare fuori, a non poter accudire i propri figli e quindi anche il fatto stesso della presenza della mezza e del tempo scuola lungo garantisce appunto una sorveglianza adeguata di questi ragazzi. Un problema che l'Istituto Vittorio Veneto, che racchiude i plessi Angeli, Santa Barbara, San Giusto e Firrio, sta cercando di affrontare già da tempo e di cui si discuterà. Venerdì 19 febbraio il centro Michele Abbate alle ore 11 nel corso dell'Assemblea Sindacale dei Lavoratori, aperta ai genitori degli alunni e ai comitati di quartiere, alle parrocchie, alle associazioni e alla quale parteciperà anche l'amministrazione comunale e la quinta commissione consigliare. Questi sono territori socialmente molto problematici. La perdita del dirigente e del direttore e di una figura che gestisca le scuole rischia di aggravare maggiormente le situazioni, con la possibilità nel giro di un paio d'anni della proprio chiusura della scuola. Questo grido di allarme lanciato dalle RSU che per domani svolgeranno questa riunione sindacale tende anche a far ricordare che si perderebbero numerosissimi posti di lavoro in una città che ovviamente non se lo può permettere.